Marco! Alexios! Kyrae! Come? Mi sono dato da fare, sai? Non c'è tempo per spiegare! Fammi uscire! Sei agile come sempre! Ora portami alla mia casa dall'altra parte della montagna! Devo portarti in braccio fin lì! Sono così debole! Va bene! Forza! Forza! Marco! Un altro vigneto! Sono sempre coerente, amico mio! Oh, fei! Ah, ora va meglio! Nessuno fugge rapidamente come te! Non c'è di che! E sono un arcazébdo! Non c'è di che! Perché n'amico con un cyberbotto! Grazie.